Un quarto delle scuole abruzzesi non è a norma. E' questo il quadro che emerge dal sito del Ministero dell'Istruzione, chiamato Scuola in Chiaro. Dati aggiornati al 2016. La denuncia arriva dal Movimento 5 Stelle, che spiega in dettaglio la situazione suddivisa per zone sismiche, a basso rischio, medio e alto. Abbiamo analizzato i dati di tutte le scuole abruzzesi presenti su questo sito, appunto del Ministero, l'anagrafe scolastica, dove tutti i genitori, anzi tutte le famiglie e tutti gli operatori possono andare a controllare, che sono dati forniti al Ministero, ma su ovviamente impulso degli enti preposti alla manutenzione degli edifici scolastici, quindi comuni e province, e dai quali risulta appunto che un quarto delle scuole abruzzesi, soltanto un quarto è a norma, quindi circa il 24%, mentre il restante non è adeguato secondo la normativa antisismica. Secondo il Movimento 5 Stelle, i dati potrebbero non essere tutti attendibili, come nel caso di istituti che da poco hanno portato a compimento lavori di adeguamento. Restano però insufficienti i fondi messi a disposizione dal Governo per i lavori necessari. Qua c'è bisogno di un piano di intervento adeguato, con dagli 8 ai 10 miliardi in pochi anni, per rimettere innanzitutto a norma, ma soprattutto per rendere adeguate e sicure le nostre scuole. Non è possibile in un paese civile come l'Italia, in una regione come l'Abruzzo, i nostri ragazzi vadano a scuola con una situazione del genere, con il rischio che le scuole non siano neanche sicure, quel luogo sicuro quali dovrebbero essere.